Alessandro Cassano, oggi insieme al sindaco di Collegorvino Antonio Zaffiri stipulerebbe questo accordo valido per il settore immobiliare, comunque un accordo importante per quanto riguarda i canoni concordati. Diciamo abbastanza positivi per quanto riguarda questo traguardo raggiunto con il sindaco e il presidente della provincia Antonio Zaffiri perché subito dopo che abbiamo stipulato gli accordi sul comune di Pescara sia Antonio Zaffiri che l'assessore Paolo D'Amico si sono prodigati per cercare di instaurare con le associazioni sindacali, proprietari immobiliari, confabitare, ma non solo come associazioni proprietari ma anche con le altre associazioni linguidini abbiamo stabilito dei tavoli di concertazione per cercare di raggiungere questo accordo sui canoni concordati da applicare al comune di Collegorvino. Sicuramente porterà un incremento sia per quanto riguarda la stipula dei contratti di locazione ma anche per quanto riguarda specificamente il comune anche un incremento a mio avviso delle entrate tributarie. Questo è un tassello di un percorso iniziato un po' di tempo fa per aiutare e per evitare lo spopolamento ma soprattutto per attrarre e portare persone nel centro storico e nei vari luoghi del nostro territorio. Però è una delle tante cose che può aiutare a riqualificare perché come ho detto prima si va a riqualificare, si va a incentivare le persone, si va a evitare lo spopolamento, l'economia circolare sul territorio perché se arrivano nuove persone ovviamente fanno investimenti sul territorio e quindi ne beneficiano tutti.